Da oltre 20 anni, Eleva 2000 è leader nella vendita, installazione e manutenzione di ascensore, montacarichi e piattaforme elevatrici. Il nostro primo obiettivo è la tua sicurezza. Operiamo in provincia di Alessandria e Pavia, con un pronto intervento attivo 24 ore su 24. Siamo a Tortona, in strada statale per Genova 11B. Visita anche il nostro sito, eleva2000.it Fiatrack, da più di 30 anni, è un punto di riferimento chiave nel settore della logistica. Concessionario ufficiale carrelli elevatori, nel suo showroom di Tortona, in strada statale per Genova, commercializza macchine per la movimentazione di merci, piattaforme aeree, scaffalature e attrezzature per le pulizie industriali di marchi leader di mercato. Ampio assortimento di macchine usate, servizio efficiente di riparazione e assistenza multimarca. Fiatrack, dal 1991. Logistica affidabile. La tua vita. La tua radio. Diretta Stadio. 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 Diretta Stadio Il tuo sport su Radio PNR Buongiorno a tutti questa è Radio PNR io sono Carlo Zeme con me è Cristian Semino eccoci qua ciao Cristian benvenuto buongiorno ciao Carlo buon pomeriggio eccoci qua siamo pronti per raccontare quello che sta per avvenire ad Asti perché oggi è una giornata molto importante per quanto riguarda il calcio del nostro territorio Asti Sidertona 33esima giornata nella serie di Gionea oggi giovedì 28 marzo le squadre scenderanno in campo alle 14.30 allora andrei subito a fare un attimo un recap di quella che è la situazione per quanto riguarda la serie di Gionea ed è per questo che Cristian se vuoi leggiamo il calendario di questa giornata quindi 33esima esattamente giocano quasi tutto alle 14.30 Albenga Pinerolo Alcione Vogherese come detto a Sidertona Borgo Sese a Gozzano Brala Vagnese Ticino Pondonnà Vado Chisola alle 15 Città di Varese Sarremese Tezzanese Alba e alle 15.30 Ligorna Chieri Perfetto quindi le ultime tre che appunto partono prima le 15 e poi le 15.30 sono le squadre che riguardano la Liguria mentre invece il resto del calendario va di conseguenza alle 14.30 turno pre-pasquale si gioca di giovedì appunto se sei d'accordo invece Cristian ti chiedo prima quello che è stata la classifica quella che è la classifica ad oggi e poi subito dopo anche l'ultimo risultato del derotona nella 32esima giornata ma iniziamo con la classifica Sì perché comanda sempre la Lucione a 65 con una partita in meno a più 5 dal Chiusola a 60 seguono il Ticino e il Bra a 55 poi Vado e Varese a 54 Albenga a 53 Ligorna a 52 Asti 51 Sarremese e Fezzanese a 39 poi entriamo nella zona calda dove c'è la Lavagnese a 38 il Dertona a 37 la Vogherese a 36 dentro la zona play-out Gozzano e Chieri Gozzano con una partita in meno a 34 Pinerolo a 33 Alba a 30 chiudono Pondonna a 22 e Borgo Sesa 16 Dicevi la zona calda e giustamente è così le squadre coinvolte diciamo così nella lotta per i play-out attenzione perché forse sono giunte negli ultimi turni anche le due Ligure Sarremese e Fezzanese comunque dai 39 punti in giù nessuno si può dichiarare tranquillo in questo momento Dertona a quota 37 e Vogherese a quota 36 le due squadre diciamo a pochi chilometri di distanza l'una dall'altra sono fuori dalla zona play-out con Gozzano, Chieri Pinerolo e Alba appunto interessate a zona calda lo scorso turno il 32esimo andiamo al volo a vedere i risultati direi soprattutto del Dertona come è andata sì perché ha visto un Dertona pareggiare una buona partita contro l'Albenga due squadre che ci hanno fatto divertire poi insieme a loro hanno giocato di sabato il Bra che ha vinto 3-1 a Chieri 0-0 tra Chisola ed Asti ha vinto il Ticino in trasferta Pinerolo 1-0 poi la domenica la Vogherese è tornata a vincere 1-0 contro il Borgo Sessia 2-2 tra Pondonnai e Varese ha vinto il Ligorno in trasferta 2-1 ad Alba 1-1 tra Gozzano e Vado la sconfitta della Capolistalcione in casa della Lavagnese e poi il pareggio di 0-0 tra Sare Mese e Fezzanese ecco giusto per fare un attimo un recap di quella che era stata la situazione dell'ultimo turno tutto ancora da vivere quello che sarà questa 33esima giornata non dimentichiamoci che poi le squadre torneranno in campo dopo la Pasqua domenica 7 aprile partita di prestigio contro una nobile decaduta del calcio nazionale Dertona Varese partita molto affascinante e da seguire con grande attenzione in quel caso scendono in campo domenica 7 aprile a partire dalle ore 15 Cristian al volo ti chiedo un attimo quali sono le notti positive del pareggio preziosissimo in rimonta in casa di sabato 23 marzo 2-2 mi viene da dire la certezza da una parte la davanti a Maradio e dall'altra invece il ritorno al gol di Guie che mancava da tanto tempo sì assolutamente a Maradio è diciamo una grande nota positiva capocannoniere del Dertona e sicuramente c'è tanto di buono della partita di sabato il pareggio conquistato contro una squadra forte rimane la mano in bocca per il rigore fallito da Manasi però è un pareggio che vedendo la trasferta difficile di oggi può dare morale fiducia ecco quindi vediamo il bicchiere mezzo pieno sotto questo punto di vista del Dertona che non dimentichiamocelo sei partite fa c'è stato il cambio alla guida e quindi adesso c'è mister Turi dopo l'avvicendamento con mister Daidola quindi il Dertona diciamo ha preso una buona piega come spesso ci viene da dire nelle ultime partite forse la nota positiva solo una sconfitta solo una sconfitta per la seconda forse la nota positiva è anche come tiene la difesa sì sì assolutamente infatti il Dertona sta prendendo meno gol sono arrivate vittorie in trasferta e quindi sicuramente sei partite cinque risultati utili diciamo che il mister Turi ha iniziato bene però sicuramente l'obiettivo resta quello di salvarsi perché la classifica comunque è molto calda poche squadre a pochi punti e oggi il Dertona deve cercare di non sbagliare eccoci qua quindi tra pochissimo già vi anticipo che ci collegheremo con Domenico Cremonte che è ad Asti in collegamento contro i Galletti Biancorossi sfida molto importante andiamo giusto al volo a vedere un attimo quella che è la classifica l'Asti che in questo momento fa parte del blocco delle squadre che addirittura possono ancora ambire ai playoff ad appena tre punti infatti dal Vado a quota 54 c'è l'Asti a quota 51 la formazione a Biancorosso andiamo anche a vedere il calendario che ci racconta in questo momento di un arrivo 0-0 contro il Chisola nell'ultimo turno e poi però una vittoria importante contro il Pondona che in questo momento è fanalino di coda forse ci viene a dire forse tra poco lo chiediamo anche a Domenico che mi anticipava anche che abbiamo già le formazioni quindi tra poco ce le andrà a leggere però al volo mi viene a dire forse vedendo la classifica Cristian Dertona che deve assolutamente salvarsi pochi punti sopra la zona playoff Asti che invece insomma la zona playoff è vicina ma fino a un certo punto forse c'è qualche motivazione in più per il Dertona oggi sì assolutamente infatti da come vediamo anche la classifica la classifica è divisa in due perché al nono posto c'è una squadra 51 al decimo c'è una squadra 39 quindi l'Asti sicuramente giocherà con un filo di tranquillità in più sapendo di essere tranquilla è chiaro che ci aspettiamo un Dertona che darà tutto per portare a casa in un punto eccoci qua quindi insomma questa è la situazione dicevamo tra poco vi leggeremo la formazione del Dertona speriamo insomma di vedere grandi cose da parte della formazione bianconera viene da chiedere e anche qua ancora una volta Cristian ti tiro in ballo su quale giocatore forse l'abbiamo già anche un po' detto in serie di presentazione ricordandoci della sfida contro l'Albenga ma su quale giocatore si potrebbe puntare in modo particolare nella sfida di oggi magari là davanti come è la situazione beh sicuramente c'è Amaradio che è il primo ignoto sicuramente da segnalare che molto in forma sta molto bene il ritorno al gol di Gueye che anche oggi viene riconfermato da Mister Turi e poi il capitano Manasev che anche lui è uno che sta segnando meno però ci mette grande voglia e nonostante il rigore sbagliato di sabato Mister Turi giustamente lo riconferma dall'inizio evviva quindi adesso tra poco anzi direi che vedo in collegamento già il nostro Domenico che ci dice che possiamo dargli la linea allora adesso alziamo il microfono di Domenico Domenico ci senti buongiorno benvenuto ciao ciao io vi segno eccoci eccoci Domenico buongiorno benvenuto dici tutto allora siamo entrati in collegamento diretto con lo stadio Censimbosia di Asti nel giovedì di Pasqua circa 200 i spettatori qui allo stadio sono pronto con le formazioni anche se c'è ancora una musica assordante alle mie spalle provo che vado a troglia provo a leggerle ok allora l'Asti giocherà con Brustoline Giura e Toma Valenti Piccone Chianese Giacchino Della Giovanna Azizi Ghiardelli Pavale in panchina Dosio Meloni Tarini Padovan Plado Coscor Filippi Nobile e Mazzucco l'allenatore signor Marco Sesi per il Dertona Sattanino Lacava Procopio Marchetti Tambussi Todisco Amaradio Toniato Gueye Manasiev e Gulli in panchina a disposizione del mister Stefano Turi Sichera Dall'Olio Pultaggio Nani Tocila Robotti Barisone Sacca e Taverna Ci sono anche tante persone di Tocila tanti genitori dei nostri giocatori in una partita molto sentita mancano solo sei giornate al termine della stagione l'anno scorso eravamo venuti qui a sei giornate dalla fine avevamo un punto in meno rispetto a quest'anno speriamo che quest'anno vada meglio saluto anche l'amico Paolo Cerchi che è qui seduto in tribuna vicino a noi ho visto anche Gigi Ronca Gianni De Caro poi pronto a intervenire per le interviste sicuramente una giornata discreta dal punto di vista meteorologico non piove fa freschino non c'è il sole mancano tre quattro minuti e poi le squadre faranno il loro ingresso in campo consentitemi anche un ricordo è mancato in settimana Ambrogio Pellagalli per tanti anni sulla panchina del Dertona in altre categorie in Serie C2 in Serie C1 è stato anche presidente del Dertona una decina di anni fa ai tempi della Serie D tanti bei ricordi riposa in pace Ambrogio evviva intanto le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo senti eccoci Domenico intanto siamo felici insomma che siamo pronti per partire per questa partita così importante volevo chiederti al volo ecco ne abbiamo parlato anche nel prepartita le sensazioni dopo il pareggio importante dell'ultima giornata e magari anche le sensazioni riguardo questa partita insomma che avversario è l'Asti dicevamo qui un avversario tranquillo sotto il punto di vista della classifica che addirittura può ambire alla zona playoff cosa ne pensi Domenico per il Dertona forse ci sono più motivazioni in questa partita sicuramente comunque ho parlato con il vice di Marco Sesi a lungo persona squisita che mi ha detto che la squadra comunque punta ad avvicinare o a centrare i playoff quindi è una specie di derby oggi non sarà assolutamente facile per il Dertona Dertona che gioca con l'ucto al braccio come dicevo per ricordare Ambrogio per la galle e le squadre hanno fatto il loro ingresso in campo e l'Asti dovrebbe schierarsi alla sinistra della tribuna centrale più bianca che rossa la loro maglia con delle bande rosse noi giochiamo in completo nero vedo il capitano Manasiev che oggi gioca quasi in casa primo perché abita qui vicino ad Asti secondo perché è stata una bandiera qui dei Galletti ormai sono più di cinque anni che a Tortona e a Aldertona nel cuore sicuramente vediamo anche una bella foto di gruppo per la nostra squadra a favore dei fotografi ce ne sono ben tre siamo quasi pronti ma con un minutino esatto dico ancora una cosa l'arbitro il signor Stefano Calzolari di Albenga sarà coadiuvato dal signor Monardo di Bergamo e dal signor Annoni di Como prego ecco perfetto no Domenico semplicemente ti lasciamo la linea per quella che è la cronaca della partita poi chiaramente ci risentiamo per l'intervallo e insomma grazie per il tuo preziosissimo contributo sì scusa Carlo ogni tanto se volete intervenire si giocano tante altre partite oggi quindi è importante magari avere qualche risultato sarà fatto assolutamente quindi ti aggiorneremo nel corso della partita buon Asti Dertona buona partita Domenico grazie a te la linea allora siamo pronti Asti che anzi no il primo pallone è per il Dertona vediamo che l'arbitro consulta i suoi collaboratori sarà probabilmente Teotoniato a calciare la prima palla e così parte in tempo la partita con il numero tre Procopio che sulla fascia serve leggermente all'indietro per Tambussi da Tambussi a Ciccio Todisco ancora Amaradio poi prima palla per Marchetti da Marchetti ancora Tambussi oggi Tambussi e Todisco sono i due centrali Todisco che due anni fa aveva segnato un gol molto importante con la prima palla per Andrea la cava non al cento per cento Gulli poi Marchetti Dertona sulla tre quarti che prova ad avanzare vediamo ancora Andrea la cava attaccato da Giacchino che è un po' la giovane stella di questo Asti ed è Giacchino che tocca per la maglia Todisco c'è il primo calcio di punizione a favore dei Leoncelli Marchetti il passaggio per la cava vediamo Guei ed avanti unica punta sarà supportato da Toniato Manasieve e soprattutto da Maradio ancora te ancora Toniati poi Tambussi poi la prima palla per Andrea Gulli che viene avanti passaggio troppo lungo per Manasieve vediamo se ci arriva ci arriva Manasieve c'è il primo calcio d'angolo della partita a favore dei Leoncelli c'è arrivato Manasieve qui non lontano da me c'è anche la signora Marina che è la moglie di Tato vediamo il primo calcio d'angolo a favore dei Leoncelli quando se n'è andato il primo minuto Emanuele Marchetti dall'estrema destra che andrà a calciare questo calcio d'angolo ancora Marchetti che posizione bene bene la palla vediamo Marchetti che prende la rincorsa ci sono tante maglie nere ma anche tante bianche in area c'è subito uno scontro non è ancora stato battuto il calcio d'angolo vediamo il signor Calzolari che va a riprendere sia Giura che Usman e che sono caduti assieme ed è ancora Marchetti sempre pronto dalla bandierina vediamo Marchetti che questa volta sembra partire parte Marchetti palla in area per Manasiev la conclusione di Manasiev che sfiora il palo una occasione importante Marchetti ha pescato Manasiev in area che ha avuto il tempo di controllare in una mezza diciamo non rovesciata però ha una specie di sforbiciata e la palla è terminata fuori Manasiev dopo due minuti prima occasione per il Dertona che sembra aver preso in mano le regne del centrocampo ma è ancora troppo presto vediamo Lasti che si distende ed è la prima palla per Cleto Giura che lancia lungo per Ciccio Valenti che sta per arrivare a contatto con Sattonino sette sono i gol per Valenti uno dei giocatori che uno dei centravanti che da più anni gioca in questa categoria sette per il momento i gol in questo campionato di solito ne ha sempre dai cinque ai dieci punta centrale intanto vediamo il Dertona che viene avanti nella sua metà campo con Todisco da Todisco a Tambussi Tambussi cerca sulla destra Andrea Lacava che non è al cento per cento poi Gulli che viene contrato c'è un teckel a centrocampo batti e ribatti poi prima palla toccata da Picone vediamo il talentuoso Galletto che sbaglia il passaggio e poi arriva Della Giovanna che spazza in avanti lancio sulla sinistra a cercare Giacchino intanto Sesia inizia a sbrazzarsi ed è il Dertona che va a conquistare un fallo laterale sarà Andrea Lacava con le mani a rimettere la palla in gioco vediamo Lacava che chiede la palla al guardaline intanto ce ne sono andati quattro minuti qui ad Astri 0 a 0 il punteggio palla dato disco a Procopio che gioca con il ginocchio fasciato Toniato non riesce a stoppare bene la palla ma arriva Lacava siamo a centrocampo prova a accendersi Lacava che cerca Maradio ma non lo trova Giacchino il passaggio in avanti poi Gueye prova a lottare c'è un batti e ribatti a centrocampo arriva bene sulla palla Valenti ma conquista la prima palla Maradio avanza Maradio che viene toccato dal numero 8 Toma Toma che è stato premiato a inizio partita dal presidente dell'Asti per cento partite in serie D era stato premiato anche Brustolin poche domeniche fa giocatori che giocano assieme da tanti anni e che hanno giocato anche tante partite in questo girone tanto salutiamo gli ultras del Dertona che sono stati messi in una specie di gabbia qui alla mia destra e c'è questo calcio di punizione dalla tre quarti per il Dertona sarà Marchetti a calciarlo profondo in area top profondo arriva Brustolin e c'è adesso un lancio per un giocatore dell'Asti che non ci arriva era Giacchino uno dei più avanzati vediamo il numero novantanove Ghiardelli che si accentra intanto una palla ancora centrocampo un campanile vediamo Gulli che prova a lanciare Gueie che lotta sulla fascia viene anticipato ancora l'Asti che deve uscire dalla sua metà campo esce palla al piede adesso Picone poi ancora Cleto Giura il passaggio per il numero diciotto Chianese poi ancora Cleto Giura gira la palla Lasti nella sua metà campo per il momento è un atteggiamento prudente quello dei Galletti ancora Cleto Giura con la maglia numero 5 lancio di Giura a cercare Giacchino che di testa non riesce a tenere la palla in campo non c'è riuscito neanche Chianese e la palla termina in fallo laterale quindi mi aspetto ancora un'altra volta Andrea la cava a rimettere la palla con le mani vediamo adesso la cava ecco la cava lancio lungo profondo per Gueye che non ci arriva ancora un passaggio a ritroso deve uscire Brustolin che poi lancia lunghissimo un passaggio al suo collega Sattanino Sattanino che va a controllare senza problemi col piede destro e passa Ciccio Todisco sarà l'ex giocatore del Casale a smistare una palla adesso per Procopio poi ancora Tambussi avanza Leo Tambussi il passaggio per Andrea la cava che prova ad accendersi viene però intercettato c'è una specie di break del numero 27 Giacchino ma la palla termina in fallo laterale il Giacchino che gioca con una mano quella destra fasciata adesso Elasti con Cleto Giura sulla fascia destra a Zizi anzi Chianese il passaggio all'indietro per Della Giovanna Della Giovanna e Cleto Giura sono i due centrali in difesa una difesa disposta da mister Sesi a tre e adesso è il Elasti con Giacchino che prova ad accendersi a centra Giacchino poi Favale con la maglia numero nove attacca dalla sinistra Elasti che si avvicina all'area del Dertona la palla sta per uscire riesce a tenerle in campo la cava che prova a servire Manasiev Manasiev viene toccato da Della Giovanna o anzi da Chianese sul pieno d'appoggio e sarà Leo Tambussi ad andare a calciare un calcio di punizione quando il mio cronometro i minuti sono nove il punteggio è di zero a zero non ci sono state ancora grosse emozioni a parte un tiro al minuto numero due di Tato Manasi lancio di Giacchino a cercare Manasi evanticipato batti e ribatti toniato poi ancora piccone ma la palla termina in fallo laterale vicino alla panchina di Marco Sesia partita che sembra non decollare giocata a ritmi non alti per il momento vediamo la cava con le mani vicino alla panchina dell'asta il passaggio per Manasiev il lancio per Gueye Gueye prova ad andare vicino all'area si decentra poi il passaggio per Manasiev per Gulli Gulli prova a entrare in area ma viene anticipato ancora a ritroso la palla per Tambussi poi Todisco vediamo Todisco che si ferma passa sulla sinistra a Procopio da Procopio a Leonardo Tambussi lancio profondo di Tambussi a cercare a Maradio anticipa Chianese con la testa e la palla termina tra i piedi di Silvio Brustoline una delle bandiere di questa squadra classe 95 da tanti anni qui ad Asti ed è l'ex di turno Cleto Giura che prova di impostare da ultimo uomo gli si fa vicino Della Giovanna classe 97 lancio lungo a cercare Valenti interviene di giustezza Tambussi e la palla termina tanto per cambiare in fallo laterale a Zizi poi Favale poi Toma gioca a ritroso anche Lasti adesso la palla è sul piededesto di Piccone che lancia bene profondo per Valenti c'è una piccola incertezza di Sattanino che recupera subito il pallone e parte sulla sinistra Rambo Procopio poi Manasiev Manasiev viene spinto platealmente da Toma e va a guadagnare un bel calcio di punizione tutto spostato sulla sinistra non lontano dall'area di rigore c'è la possibilità qui di un bel cross in area vediamo Marchetti che va a posizionare la palla con grande cura signor Calzolari di Albenga gli dice di arretrare c'è solo Giacchino per il momento in barriera vediamo Marchetti pronto a calciare il calcio di Marchetti profondo troppo profondo in area ci arriva con le mani Brustolin che lancia subito lungo a cercare Giacchino ci arriva però bene d'esperienza Todisco che passa subito la palla Sattanino di testa poi sulla sinistra riparte Marchetti da Marchetti a Toniato da Toniato a Tambussi poi ancora Teo Toniato che da qualche settimana ha cambiato look ai capelli leggermente ossigenato e ancora Lasti attenzione con Valenti che prova a venire in contropiede poi Toma Toma sulla trequarti serve Giacchino Giacchino tutto spostato sulla sinistra attenzione il centrocampista genovese prova a superare Manasieve che poi lo supera il Macedone va avanti palla al piede ci sono stati due falli su di lui finalmente l'arbitro decide di intervenire quando i minuti sono tredici 0 a 0 qui al Censimbosia ed è il Dertona che riparte con Ciccio Todisco Todisco sulla destra per Tambussi ecco Leo Tambussi che si accentra poi passa di nuovo all'indietro per Todisco da Todisco ad Amaradio Amaradio per ora ancora poco cercato dai compagni Amaradio che va a fare fallo su Chianese Chianese classe 2005 e c'è un calcio di punizione vicino alla linea che delimita il campo Saracleto giura anzi è Picone che prova a servire Valenti poi anzi scusate Procopio poi Tambussi avanza palla al piede Tambussi serve Manasieve sulla fascia destra lancio profondo di Manasie per Amaradio troppo profondo ci arriva Brustolin prima di tutti Brustolin che gioca con una maglia azzurra tanto la palla termina fuori questa volta il fallo laterale è per i padroni di casa che andranno a rimettere con le mani vicino alla linea che delimita il campo ancora Toma ma anzi è Valenti poi un batti e ribatti a centrocampo un tentativo di servire Gueye la palla termina pensate un po' tra le mani di Mister Turi che la posa e la concede ad Andrea la cava che batte tutte le rimesse con le mani dalla fascia destra vediamo la cava che è pronto a rimettere in gioco per Toniato poi ancora la cava che viene anticipato e la palla ancora una volta termina in fallo laterale si cambia il pallone vediamo Andrea la cava con le mani pronto a rimettere la palla per Gulli da Gulli a Teotoniato che ha il problema di girarsi si gira e serve all'indietro Todisco poi c'è un'incompressione con Procopio e la palla termina qui sotto la nostra postazione in fallo laterale Chianese che fa gioco sulla fascia destra preferisce appoggiarsi a Cleto Giura che serve Della Giovanna avanza sulla fascia sinistra supera adesso il centrocampo della Giovanna non sa poi cosa fare passa la palla Giura da Giura a Chianese Chianese avanza e serve Giacchino anzi serve il numero 99 Favale poi ancora Della Giovanna Favale lo ricordo ex Borgosesi ha una seconda punta che gioca davanti assieme a Valenti intanto elastico prova ad avanzare attenzione a Piccone poi Favale una palla che non passa poteva essere velenosa ancora Giacchino sulla fascia sinistra prova insistere Lasti viene avanti a Zizi poi ancora un passaggio per Giacchino avanza e entra in area attenzione Lasti con Giacchino che sbaglia l'ultimo passaggio ci arriva giura dalla grande distanza prova la botta ma trova una respinta e poi il Dertona stava per ripartire l'arbitro interrompe l'azione arbitro che concede un calcio di punizione per i leoncelli però secondo me poteva lasciare andare avanti l'azione di contropiede anche se la palla era ancora nella metacampo del Dertona Dertona che avanza con Todisco poi Tambussi vediamo Leo Tambussi il difensore di Pontecurone che serve Toniato dalla tre quarti d'attacco da Toniato per Procopio Procopio ne ha due serve vicino all'area Manasiev che poi viene contrato da Giura l'arbitro dice che Manasiev ha spinto e quindi c'è un fallo a favore dell'Asti che riparte sulla fascia sinistra di Gran Carriera poi si ferma un attimo Favale la palla sui piedi di Picone uno degli idoli dei tifosi astigiani ancora Giura da Giura della Giovanna avanza palla al piede della Giovanna serve Giacchino che gioca molto spostato sulla fascia sinistra sulla tre quarti d'attacco Picone che invece fa un po' il play di questa squadra vediamo da Picone sulla fascia destra al numero diciotto Chianese avanza Chianese il passaggio per Favale poi ancora Favale poi all'indietro per Cleto Giura Dertone adesso abbastanza schiacciato nella sua metà campo Favale poi Chianese da Chianese a Giura l'ex Dertone serve Picone bello lancio a servire Valente lo conquista pallone attenzione che stava per uscire non è uscito e c'è il gol dell'Asti hanno fatto la frittata i giocatori del Dertone ha segnato Giacchino errore di Ciccio Todisco la palla sembrava essere uscita in realtà è rimasta sulla linea Valenti è stato bravo a crederci Todisco era a terra passaggio raso terra di Giacchino anzi di Valenti per Giacchino era un po' che Giacchino non segnava e naturalmente ha segnato col Dertone il giocatore di Genova avete sentito la segretaria dell'Asti Eleonora che ricorda tutti il gol del vantaggio dell'Asti segnato da Giacchino Asti che per la prima volta entra in area e Dertone ha beffato occasione sporca e comunque quello che conta è che l'Asti è in vantaggio grazie al gol di Gabriele Giacchino ben servito da Valenti intanto il Dertone si riporta in avanti c'è un tentativo di Amaradio che viene spinto da Chianese fuori dal campo e adesso è Manasiev che entra in area di prepotenza alla botta di Manasiev ma la parata troppo centrale il tiro di Tato Manasiev e quindi c'è la parata di Brustolini non ci voleva questo gol nella prima occasione Lasti è passato in vantaggio Todisco pensava che la palla fosse uscita lui era a terra Valenti ci ha creduto e dal fondo ha servito un cioccolatino perfetto per Giacchino che ha battuto l'incolpevole Sattanino nel cuore dell'area uno a zero quindi per i Galletti partita in salita per il Dertona vediamo Andrea Lacava per Manasiev poi ancora sulla destra Lacava che viene spinto da Giacchino e c'è un calcio di punizione a favore del Dertona Dertona che deve fare di più vicino all'area di rigore Dertona seguito qui ad Asti da almeno 60 o 70 persone vediamo tutto spostato sulla destra c'è un calcio di punizione a favore dei Leoncelli sarà scusate Manuel Marchetti a calciare questo calcio piazzato ci sono tante maglie bianche ma anche qualche maglia nera in area di rigor tanto Procopio incita i propri compagni vediamo Marchetti dalla estrema destra pronto a calciare questo calcio di punizione probabilmente scodellerà la palla in area cercare la testa di Tambussi o quella di Gueia pronto Marchetti cross troppo corto la palla rimane sui piedi di Valenti che poi serve Favale che parte via veloce in contropiede ma anticipa tutto Marchetti che poi prova a servire Sattanino Sattanino prova a cercare Gueie anticipato bene da Della Giovanna Della Giovanna per Azizi poi prova a intervenire Andrea Gulli che si vede non è al meglio ed è Picone che calcerà un calcio di punizione nella propria metà campo vediamo Picone su di lui Gulli pronto a calciare questo calcio di punizione intanto sono andati 23 minuti di questo primo tempo e Lasti è in vantaggio 1 a 0 grazie al gol di Gabriele Giacchino palla adesso a Cleto Giura Giacchino che è un classe 2003 lo ricordo della Giovanna poi passaggio per Valenti da Valenti ancora Gabriele Giacchino che viene strattonato da un giocatore del Dertona poi la palla termina sul fondo e quindi sarà Sattanino ad andare a rimettere in gioco la palla lo fa su Todisco da Todisco a Tambussi avanza palla al piede Leo Tambussi ma siamo sempre nel metà campo del Dertona bisogna accelerare un po' i ritmi Todisco lancio sulla fascia destra per Andrea la cava avanza la cava serve toniato da toniato ancora la cava poi all'indietro all'indietro per Todisco da Todisco per Procopio lancio profondo di Procopio a cercare la cava la cava stoppa bene la palla al passaggio per Marchetti in area poi la palla termina addirittura sul fondo non ci arriva nessuno e l'arbitro dice che sarà Lasti a dover rimettere in gioco la palla sull'estrema sinistra Lasti andrà a rimettere sì sì ti aggiungo con qualche risultato dunque vince la Lavagnese 1-0 a Bra vince il Ticino 3-1 in casa col Pondonna 1-1 Travade Chisola il resto è tutto 0-0 sicuramente non mi hai dato una buona notizia speravamo tutti nella vittoria del Bra contro la Lavagnese ma evidentemente la Lavagnese è in un momento di forma ottimo visto che Domenica ha battuto in casa la capolista Alcione adesso sta vincendo a Bra ma le partite lo sappiamo finiscono al 95esimo quindi alla fine commenteremo tutti i risultati intanto prova Gueye scappare commette fallo su Della Giovanna e il guardalinea invita l'arbitro a fischiare 1-0 per l'asti qui al Censin Bosia intanto vediamo che c'è ancora Della Giovanna a terra si perderà ancora un po' di tempo sono 25 i minuti al mio cronometro intanto c'è una signora che dice Diderton ci sono diversi tifosi qui ad asti di fede bianconera gli ultras sono stati posizionati in una specie di gabbia vediamo il portiere Brustolin pronto a calciare ecco Brustolin che lancia profondo a cercare Ciccio Valenti anticipato da Tambussi ed è il numero due La Cava che butta la palla in fallo laterale tanto salutiamo e ringraziamo tutti i nostri sponsor ecco Manasiev che riparte per Todisco Guei era in fuorigioco non ha potuto scattare ancora Brustolin lancio lungo palla che è nel metà campo del Dertona con Procopio che serve Todisco poi ancora Matteo Procopio da Procopio a Tambussi da Tambussi a Marchetti a Centrocampo ma ci vuole più decisione per mettere paura a Unasti molto ben disposto in campo ancora la Cava sulla destra per Gulli prova ad avanzare Gulli all'indietro però per Todisco da Todisco la palla Toniato Toniato fa carambolare la palla sulla mano di Chianese l'arbitro dice che è tutto regolare ancora Chianese lancio lungo sulla testa di Procopio poi Toniato Toniato lotta con Toma passaggio poi per Gueie Gueie che viene spinto poi il passaggio adesso per Amaradio poi ancora Procopio che sta stranamente sulla faccia destra per Manasiev Manasiev in area vediamo se riesce a conquistare qualcosa conquista il secondo corner tra gli applausi dei tifosi di Tortona parlavo prima di sponsor mi è arrivato adesso un sms da Carbonara salutiamo il salone di bellezza Angels ci ascoltano anche da lì ma seguiamo la cronaca in diretta il Dertona in area con un colpo di testa tentato poi Gulli che prova girarsi ma la sua conclusione termina direttamente sul fondo nulla di fatto da questo secondo calcio d'angolo della partita non è ancora abbattuti l'Asti ne ha abbattuti due il Dertona ma il punteggio dice Asti uno Dertona zero grazie al gol segnato al diciannovesimo da Gabriele Giacchino avanza adesso sulla destra Toma poi ancora Piccone per Brustolin guarda la disposizione dei suoi compagni poi di sinistro lancia lungo per Giacchino troppo lungo tanto facciamo i complimenti anche chi si occupa del terreno di gioco qui ad Asti che è in buone condizioni erano anni che non lo vedevo così bello il prato del Censin Bosia ed è la palla che termina in fallo laterale ancora una volta l'arbitro dice che è stato toniato a buttare la palla fuori e quando siamo al trentesimo c'è una rimessa sul piede destro di Giura che spara in avanti vediamo Favale che non ci arriva perché viene superato in velocità da Procopio palla sul destro di Sattanino rilancio profondo a cercare Gueye di testa batti e ribatti la cava poi Andrea Gulli non ci arriva anzi ci arriva Gueye il passaggio adesso per Gulli che viene spinto platealmente finalmente l'arbitro lo vede anzi mi sembra che abbia girato la punizione vediamo Gulli è un giocatore dell'asti a terra ma sembra che l'arbitro voglia concedere un calcio di punizione per i padroni di casa così è intanto fortunatamente si rialza Andrea Gulli nulla di grave per i due giocatori e sarà Brustolin ad andare a rimettere la palla in gioco Silvio Brustolin pronto a rimettere in gioco con il suo destro ecco il lancio lungo del portiere di casa sempre a cercare Giacchino anticipato di giustezza con la testa da Andrea Lacava palla in fallo laterale ancora per l'asti che avanza con Giacchino viene contrato da Maradio la palla termine in falla laterale intanto continua arrivare gente in questo giovedì di Pasqua vediamo cosa decide l'arbitro probabilmente ci sarà un altro fallo laterale un'altra rimessa con le mani non lontana dalla bandierina palla in area attenzione e forse c'è il primo angolo l'arbitro dice di no l'ultimo a toccare deve essere stato favale e sarà Sattanino ad andare a rimettere in gioco la palla quando i minuti al mio cronometro sono 32 Sattanino che sbaglia questa volta completamente la rimessa palla che termina in fallo laterale passa il tempo il risultato rimane fisso sull'uno a zero a favore dei galletti squadra molto molto compatta favale all'indietro il passaggio sbagliato ancora a Manasi e però c'è una disattenzione ancora a Todisco che va a chiudere bene per a Maradio Maradio cade a terra sono stati veramente poco pochi i palloni giocabili per il ragazzo di Arquata e adesso c'è Valenti che si avvicina alla bandierina un intervento in spaccata di La Cava la palla termina in fallo laterale ma Elasti già a portarsi in avanti dalla estrema sinistra cross teso in area attenzione ci arriva Procopio poi c'è una prateria davanti a Teotoniato che lancia Gueye che stoppa la palla fa fuori giura poi però Gueye invece di andare avanti torna indietro viene però caricato da Picone e Gueye è bravo a conquistare un fallo ma siamo nel metacampo del Dertona e sarà Manuel Marchetti ad andare a calciare questo calcio di punizione quanti minuti sono 33 e la partita è incollata sul punteggio di 1 a 0 a decidere la partita fino a questo momento il gol di Giacchino arrivato al minuto numero 19 sarà Manuel Marchetti ad andare a calciare questo calcio di punizione lo fa a favore di Todisco da Todisco a Toniato ancora Todisco all'indietro poi il passaggio per Tambussi lancio di Tambussi anzi passaggio per Marchetti poi ancora Leo Tambussi che deve però appoggiare la palla sulla sinistra prima Todisco poi a Procopio Procopio che prova al lancio contratto da Toma in fallo laterale vediamo Procopio che si avvicina all'area di rigore con le mani proverà a rimettere la palla al centro Toniato poi Procopio ancora fallo laterale è intervenuto bene Ciccio Valenti palla ancora sulle mani di Procopio per Toniato Toniato si gira la palla a Marchetti da Marchetti ad Andrea Lacava dalla lunga distanza provano conclusione completamente sbagliata Andrea Lacava palla di dieci metri sulla destra di Brustolin anzi sulla sua sinistra sarà Silvio Brustolin adesso a rimettere in gioco la palla quando i minuti sono 35 e il punteggio è sempre di 1-0 per i padroni di casa Domè una domanda da studio sembra che comunque il Dertona sta giocando una buona partita tutto sommato perché abbiamo sentito tante avanzate e là si è sempre stato solamente una volta in aria Sì Dertona che non sta giocando male ma manca dalla tre quarti in su di occasioni non riusciamo a crearne arriva bene fino alla tre quarti e poi manca qualcosa Gueye gioca da solo davanti Amara Dio ha avuto pochi palloni giocabili e insomma quest'arbitro devo dire che mi sembra anche un po' casalingo adesso addirittura vada a monire Manuel Marchetti sicuramente una direzione arbitrale abbastanza casalinga adesso vediamo cos'ha da dire con Procopio comunque primo a monito Emanuel Marchetti nelle fila del Dertona una monizione sostanzialmente arrivata per proteste e comunque c'è un calcio di punizione molto pericoloso dalla fascia destra è il numero dieci Picone che probabilmente scaglierà la palla in area Unasti che ha dei colpitori di testa pericolosi vicino a Picone Favale e Giacchino i tre giocatori forse più talentuosi della squadra allenata da Marco Sesi probabilmente sarà Picone a calciare l'arbitro va in area esce in questo momento Picone chiama lo schema palla di Picone sul portiere ci arriva Gulli che scaraventa la palla in calcio d'angolo ed Elasti che andrà a calciare con Picone il suo secondo angolo Picone con grande calma si avvicina alla bandierina quando i minuti sono trentasette Elasti conduce sempre col punteggio di uno a zero vediamo Elasti che avanza con Giacchino attenzione a Giacchino palla tesa in area attraversa tutta l'area poi ci arriva sulla sinistra Procopio lancio di Procopio per Gueye che stoppa per Manasie va ancora Gueye ancora Manasie poi Gulli da Gulli a Toniato Toniato sulla fascia destra quasi sulla tre quarti d'attacco il passaggio per Manasiev Manasiev che prova ad accendersi sbagliato il tocco in area poi ancora Giacchino che sparacchi in avanti una palla che termina in fallo laterale vicino al suo allenatore trentotto al mio cronometro i minuti in questo primo tempo ecco Gulli che fa fatica a stoppare ma poi serve bene Maritroso ancora Todisco da Todisco a Tambussi Tambussi il passaggio per Manasiev siamo a centrocampo vediamo Manasiev cinturato l'arbitro vede il fallo e dal metà campo riparte il Dertona con Ciccio Todisco lancio lungo a cercare a Maradio poi ci arriva la cava poi ancora Maradio che viene cinturato steso e quindi c'è un altro calcio di punizione potenzialmente interessante tutto spostato sulla destra una palla ideale per un cross in area anche se da un punto di vista fisico in area sembra avere più centimetri e più peso la squadra di Marco Sesia vediamo Marchetti se metterà un bel cross in area si avvicina all'area anche Manasie vediamo Marchetti con suo destro palla tesa in area non ci arriva Gulli e la palla termina l'MLM vicino alla bandierina sul fondo altra occasione sprecata dai Leoncelli unico tiro in porta dei Leoncelli quello al minuto numero 2 di Manasie anche se la palla è uscita di poco quindi non era nello specchio della porta vediamo adesso Silvio Brustolin che ci mette un po' di tempo ma tra poco andrà a calciare da Brustolin la palla ancora Picone lancio di Picone ci arriva Marchetti di testa batti ribatti a centrocampo Tambussi il lancio per Amaradio profondo troppo profondo tra le braccia di Silvio Brustolin ci vuole più decisione più precisione in avanti e oggi ci manca anche un pochino di velocità mi sembra ed è Brustolin che va a calciare un campanile verso Ciccio Valenti Valenti ci arriva di testa ma la palla termina direttamente sul fondo bello il colpo d'occhio comunque in questo stadio direi 250 fosse qualcosa di più gli spettatori presenti qui al censimbosia di Asti palla adesso a centrocampo ci arriva Gulli poi non ci arriva attenzione c'è un buco clamoroso Giacchino in area si defila e c'è il gol del numero 27 Giacchino in contropiede un'altra frittata minuto 41 Giacchino in contropiede doppietta del ragazzo di Genova e notte fonda per i nostri leoncelli quest'Asti è molto bravo a addormentare la partita sembra che non facciano nulla e poi i giocatori di Sesia alla prima opportunità vanno a finalizzare 2 a 0 per l'Asti un altro errore clamoroso della difesa questa volta ha lasciato scoperto completamente la sua fascia sinistra è partita partito di gran carriere Giacchino è entrato in area e per un giocatore del suo talento non è stato difficile trafiggere il nostro povero Sattanino 2 a 0 quindi per i Galletti partita di grossa sofferenza ancora il Dertona che prova a venire in avanti lo fa con Todisco lancio profondo di Todisco a cercare a Maradio ma la palla termina l'MLM in fallo laterale siamo già al minuto numero 43 Elasti è avanti con merito 2 a 0 squadra molto molto compatta che ha concesso poco in difesa i Leoncelli Dertona naturalmente fa molto fatica davanti e adesso c'è uno scontro a centrocampo con Toniato che perde uno scontro commette anche fallo e quindi ci sarà un calcio di punizione a favore dei Galletti calcio calcio profondo a cercare favale altro trottolino interessante una seconda punta di movimento passaggio per Picone da Picone a Toma poi Toma lancia una palla che addirittura va a colpire la traversa sembrava fuori nulla di fatto adesso c'è un brutto fallo sulla cava e c'è anche l'ammunizione per Picone a centrocampo una specie di tiro cross di Toma che è andato a colpire la base alta della traversa secondo ammonito uno per parte prima Marchetti poi Picone mi dicono intanto ringrazio che era stato ammonito anche Giacchino il numero 27 che oltre a aver fatto due gol è stato anche ammonito comunque non cambia la sostanza Dertona senza idee oggi davanti vediamo Manasiev dalla tre quarti parte passa la palla ad Andrea la cava in area non ci arriva nessuno esce palla al piede di gran carriera Toma poi recupera Maradio sulla fascia destra Maradio prova entrare in area forse riesce a conquistare il terzo calcio d'angolo così è almeno chiude questo primo tempo in attacco il Dertona un minuto di recupero dice la segretaria Eleonora Anselmo che ringraziamo per averci messo a nostro agio qui in tribuna parte l'angolo ci arriva un difensore dell'asti poi a Maradio poi la cava fuori dall'area è toniato vediamo cosi inventa toniato palla verso Brustolin che è un gatto ed esce molto bene copre la palla quindi svanisce anche questo tentativo del Dertona 2 a 0 per i padroni di casa che hanno dimostrato di essere più squadra e d'altra parte davanti hanno giocatori come Valenti Favale e Giacchino che possono fare male a chiunque secondo me con un po' d'anticipo l'arbitro fischia quindi termina il primo tempo 2 a 0 per i galletti speriamo di vedere un Dertona diverso nella ripresa un Dertona che deve fare molto molto di più linea allo studio di nuovo in onda su Radio PNR di nuovo in onda all'interno di Diretta Stadio Asti Dertona 2 a 0 il risultato una doppietta per quanto riguarda la formazione bianco-rossa che sta inchiodando il risultato a favore della squadra di casa per il Dertona insomma partita piuttosto complicata al diciottesimo del primo tempo e poi al quarantunesimo Giacchino ha buttato dentro una doppietta che in questo momento mette in difficoltà la formazione di Mistratturi Cristian al volo se ci sei ti volevo dare le indicazioni per quanto riguarda volevamo dare un paio di indicazioni per quanto riguarda quello che sta accadendo nella serie di Gione A per quanto riguarda questa trentatresima giornata e quindi insomma facciamo un attimo un recap sì perché dovrebbero essere tutti finiti i primi tempi 0-0 tra il Benga e Pinerolo vince l'Alcione 2-1 con la Vogherese 0-0 tra Borgosi e Segozzano 1-1 tra Bra e Lavagnese di Laga il Ticino 4-1 in casa col Pondonna 1-1 tra Vado e Chisola stesso risultato tra Varese e Sanremese vince la Fezzanese 1-0 con l'Alba e 0-0 tra Ligorne e Chieri perfetto quindi insomma giusto per avere un po' la situazione in mano dei risultati di questa trentatresima giornata e allora a questo punto ti chiedo anche se hai al volo quella che è la classifica di questa serie di G1A ricordando il fatto che tre partite sono iniziate con mezz'ora e un'ora di ritardo prego sì per fortuna la classifica non cambia per il Dertona che rimane sempre fuori dalla zona play-out l'Alcione con questa vittoria torna momentaneamente a più 6 sul Chisola con una partita in meno il Ticino segue a 58 quarto posto Bra 56 Vado 55 Varese 55 Lasti che fa un buon salto sale a 54 insieme all'Albenga Ligorna 52 Fezzanese 42 Sarremese 40 Lavagnese 39 che sta pareggiando Dertona 37 Vogherese 36 che sta perdendo Gozzano 35 al primo posto della zona play-out che sta pareggiando 0-0 Borgosesia Chieri 34 Pinerolo 34 Alba 30 che sta perdendo poi chiudono Pondona 22 e Borgosesia 17 Benissimo quindi insomma giusto per capire dobbiamo rammentare il fatto che il Chieri deve ancora scendere in campo contro Ligorna lo farà a partire dalle 15 30 classifica alla mano però insomma il Dertona diciamo può vedere il bicchiere mezzo pieno se vogliamo con in questo momento il Gozzano che è ancora fermo nel pareggio col Borgosesia Lavogherese che sta perdendo contro la capolista Alcione e per adesso anche risultati negativi dell'Alba e il pareggio del Pinerolo quindi insomma situazione stabile se vogliamo Sì situazione stabile partita che non è ancora chiusa quello è poco ma sicuro chiaro che il Dertona dovrà entrare in campo con un atteggiamento diverso cercare di segnare nei primi minuti del secondo tempo per poi giocarsela giocarsela tutta per portare a casa almeno un pareggio Bene allora facciamo così andiamo un attimo in pubblicità e poi torniamo tra poco tentiamo di collegarci ancora con Asti per commentare quello che è il primo tempo sentiremo tra poco le voci da quelle parti in un ambiente stimolante e accogliente la palestra American Club di Tortona ti offre la possibilità di divertirti e di migliorare la forma fisica e il benessere del corpo tutti i giorni dalle 7.30 alle 22 puoi condividere passioni e interessi con nuovi amici tutte le attività della palestra su AmericanClub.it American Club la tua seconda casa Assicurazioni Picchi opera da 50 anni con professionalità e serietà offrendo alla sua clientela servizi finanziari ed assicurativi Marco Picchi ed il suo staff ti aspettano per proporti prodotti previdenziali e finanziari più innovativi e offrendoti un servizio personalizzato in linea con le tecnologie di comunicazione più moderne Assicurazioni Picchi è a Tortona in largo Borgarelli 3 telefono 0131 815078 assicurazionipicchi.it per affrontare insieme le sfide di domani Fly On Aero è il centro di formazione aeronautico approvato da ENAC specializzato in corsi teorici e pratici per la formazione di nuovi tecnici aeronautici i corsi consentono di richiedere la licenza di manutenzione aeronautica all'ENAC e di iniziare a lavorare presso società aeronautiche nazionali e internazionali con stipendi superiori alla media contattaci al numero 344 0323 944 oppure scrivi a info at flyon.aero e vieni a visitare la nostra sede di Tortona prendi il volo per un mondo pieno di opportunità una colazione golosa una pausa pranzo sfiziosa tante ricette genuine per portare in tavola il pane di una volta e una grande varietà di pizze e focacce tanti prodotti da forno artigianali preparati con ingredienti selezionati accompagnati dalle specialità della caffetteria interna tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 6 alle 14.30 la tostaccia vi aspetta a Tortona in strada statale per Voghera 93 la tostaccia la focacceria più tosta che c'è la tua vita la tua radio 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 di nuovo in onda di nuovo in diretta per quella che è la sfida tra Asti e Dertona questo è PNR Sport Club e soprattutto siamo molto felici di avere in collegamento telefonico direttamente da Asti Gianni De Caro ciao Gianni eccoci benvenuto sì purtroppo non so quello che potrete sentire perché c'ho la musica palla alle spalle no ma Gianni vai tranquillo alla grande sta andando alla grande ti sentiamo forte è chiaro quindi grazie scusa allora subito una curiosità di costume cos'è sta musica palla che mettono anche prima domenico dappertutto solo noi rischiamo cerchiamo di rispettare le persone mettono la musica a palla proprio per disturbare porca miseria stesso problema di domenico prima va bene allora al di là di tutto purtroppo siamo in collegamento raccontando questo 2-0 a favore dell'Asti domenico in radio cronaca diceva un Asti sorgnone sotto certi punti di vista sembrava muoversi poco e poi ha infilato due volte il Dertona tu come l'hai visto questo primo tempo? allora io l'ho visto che praticamente ha definito bene quello che ha detto Domenico Nasti sorgnone ha aspettato gli errori del Dertona come il Dertona sbagliato ha colpito noi abbiamo avuto due clamorose occasioni con Manasse due due praticamente calci di rigore in movimento e non li abbiamo sfruttati uno addirittura dopo due minuti dall'inizio della partita sai facevi qualcosa lì la partita ti cambia certo certamente infatti la piega che ha preso la partita chiaramente in questo momento a favore della squadra biancorsa però adesso ti chiedo per il secondo tempo sembra inutile chiedertelo però è così cosa bisogna fare secondo te nella ripresa per rimettere un po' a posto le cose bisogna chiuderli lì non farli uscire dall'area fare subito un gol in modo di avere poi tanto tempo a disposizione per giocare con calma e fare il secondo e che le occasioni che ti capitano le devi fare però devi giocare con più devi mettere devi fare subito un paio di cambi perché veramente Marchetti Marchetti e Gulli sono veramente inguardabili praticamente noi giochiamo in nove e non va bene così perché devono dare di più alla causa probabilmente non sono in forma però devono dare di più e devono cercare di aiutare la squadra la squadra lavora tutta la settimana può essere un pelo stanca però speriamo adesso nel secondo tempo una ripresa migliore con più grinta e determinazione Sì io Gianni volevo chiederti visto comunque il risultato visto che c'è poco da perdere Mizzerturi potrebbe azzardare di giocare a due punte finalmente visto che abbiamo sempre visto giocare Gueda solo là davanti Beh sai parlare di punti in casa del Dertona è farsi male da solo farsi male da solo perché di punti ne abbiamo proprio poche però quelli che abbiamo diciamo i maradio i gueglie i manager che potrebbero adattarsi a punta cercare di essere un po' più determinanti in avanti Senti appunto Gianni a proposito di quello che ti chiedeva Cristian a questo punto però secondo te c'è qualche insomma qualche giolli da pescare dalla panchina per il secondo tempo secondo te per raddrizzare il match Beh sicuramente io farei entrare almeno 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 Nani lo farei entrare proverei proverei sicuramente Nani perché a questo punto non so come potremmo o Robot i Robot ho visto entrare bene nell'ultimo quarto d'ora domenica scorsa sabato scorso al Coppi quindi abbiamo la possibilità di modificare un po' lo schieramento Benissimo un'ultima battuta di colore hai noi Giacchino tornato al quad dopo tanto tempo insomma ha pescato subito il Dertona quindi una doppietta che non ci voleva allora Gianni io intanto ti ringrazio ti lascio alla musica dello stadio di Asti Sì praticamente con la musica parla nelle orecchie povero Domenico Domenico ce l'ha ancora più vicino più vicino di me infatti prima lo sottolineava va bene grazie speriamo che il primo tempo ha portato bene loro speriamo che adesso il secondo tempo porti bene a noi evviva grazie mille a Gianni De Caro per questo commento live direttamente da Asti buon lavoro dopo un abbraccio ciao Gianni eccoci qua dunque di nuovo in diretta e di nuovo in onda per questo secondo tempo molto importante tra Asti e Dertona lo ricordiamo ancora una volta l'Asti è in doppio vantaggio sul Dertona al 19esimo di primo tempo il gol di Giacchino nella ripresa ancora una volta Giacchino tra poco ci colleghiamo con tra poco ci colleghiamo con Domenico chiedo a Domenico se ecco Domenico mi fa un cenno di ok e quindi lo metto subito in nostro collegamento per averlo con noi dovrei farcela io eccoci qua Domenico Domenico ci senti? sì vi sento bene voi eccoci voi vi sentite? sì sì nonostante la musica ci ha detto Gianni che è piuttosto alta sì c'è una musica assordante ma poi quando inizia la partita la tolgono fortunatamente senti Domenico ci viene da chiederti per il secondo tempo l'abbiamo chiesto anche a Gianni De Caro in sede di commento quali possono essere le mosse di Mister Tui per la ripresa per riuscire a riaggrapparsi a questa partita questo 2-0 ma potrebbero entrare sia Robotti che Nani o potrebbe anche tentare la carta Matteo Sacca anche se da un po' di tempo che non lo schiera non lo so se non è al meglio vedremo poi di capire negli spogliatoi comunque qualcosa bisogna provare bisogna dare un pochino più di peso offensivo alla squadra anche se come diceva giustamente Gianni gli uomini d'attacco sono contati oggi abbiamo visto solo Gueye davanti a Maradio è stato poco servito ripeto non abbiamo giocato male ma abbiamo consentito all'asti di essere squadra molto cinica due occasioni due gol il primo sul primo gol ci poteva essere anche un fallo sotto disco non ravvisato dall'arbitro sul secondo c'è stato un errore clamoroso della nostra difesa che si è fatta imbucare in contropiede con Giacchino che è entrato in area e ha fulminato Sattanin intanto vi comunico che i giocatori del Dertona sono già in campo stanno salendo le scale degli spogliatoi invece quelli dell'Asti vediamo Turi che sta parlando a lungo con Manuel Marchetti che non ha non ha giocato sicuramente la sua migliore partita da quando è a Tortona per il momento mi sembra di non vedere cambi quindi dovrebbero giocare gli stessi undici del primo tempo Dertona che attaccherà dalla sinistra alla destra Perfetto Domenico se sei d'accordo io allora ti restituisco la linea così che tu possa raccontarci la ripresa di Asti Dertona in questo momento con il risultato fisso su 2-0 volevo solo chiedervi se avete dei finali dei primi tempi allora certamente ce li abbiamo qua davanti per aggiornarci con Albenga Pinerolo 0-0 Alcione Vogherese 2-1 dato a doppio vantaggio l'Alcione Vogherese ha subito però risposto sul finale di tempo Asti Dertona 2-0 come stiamo seguendo Borgossiesa Gozzano 0-0 Bra Lavagnese 1-1 Ticino Pondonna 4-1 Vado Chisola 1-1 Varese Sanremese 1-1 ma iniziata alle 15 Fezzanese Alba 2-1 Anchessa iniziata alle 15 e alle 15.30 Ligor Nacchieri che è proprio iniziata in questo momento quindi questa è la situazione forse le partite da seguire con più attenzione riguardano proprio la Vogherese chiaramente ma anche il Gozzano mi viene da dire Domenico Sì Vogherese Chieri Gozzano Alba Lavagnese sono tutte squadre vicine a noi e quindi speriamo che perdano tutte perché qui oggi non è che stiamo per portare a casa tanti punti anche se il pallone è rotondo e ne abbiamo visto di tutti i colori quindi speriamo che il sole che ha spuntato porti bene al Dertona Ecco esatto forse è abbastanza faticoso immagino poi giocare sugli altri campi mi viene da dire sugli altri risultati questo forse un po' il peccato come dici tu Domenico forse però auguriamoci il meglio per la ripresa ecco ancora qualche minuto da aspettare per il secondo tempo le squadre vi confermo sono entrate in campo con le stesse schiaramenti con i quali avevano iniziato quindi magari ve li ricordo sì guarda Domenico se vuoi leggerci gli undici sia dell'Asti che del Dertona siamo qua a disposizione allora Asti Brustoline Giura Toma Valenti Piccone Chianese Giacchino Della Giovanna Zizi Chiardelli e Favale per il Dertona Sattanino Lacava Procopio Marchetti Tambussi Todisco Amaradio Toniato Gueye Manasiev e Gulli eccoci quindi questi i 22 in campo Dertona che di fatto scende in campo con un'unica punta almeno questo è stato il primo tempo sì con un'unica punta Gueye sia Manasiev che Amaradio che ha tratti Gulli che ha tratti Toniato hanno cercato di dargli una mano ma la differenza dei due schiarementi sulla carta è netta un'Asti che gioca davanti con tre giocolieri Giacchino Valente Valenti scusate Favale anche un giocatore di grande classe come come Piccone quindi insomma la qualità sta facendo la differenza anche se ripeto l'Asti ha fatto due azioni e due gol Dertona non è che abbia fatto molto di più deve fare il mia colpa sia sul primo che sul secondo gol e comunque siamo pronti a partire intanto direi che ci sono 300 spettatori tutti qui allo stadio di Asti e soprattutto mandiamo un abbraccio al folto e nutrito gruppo di Tortona che segue la squadra fino ad Asti sicuramente almeno 60 o 70 persone tanto parte il Dertona resta con Manasiev Manasiev sulla tre quarti serve Teotoniato ancora il passaggio per Procopio in area il passaggio sbagliato sulla testa di Cleto Giura ancora un Dertona che arretra poi il passaggio per sbagliato per Procopio poi interviene Picone che prova a far partire Toma in realtà la palla arriva sui piedi di Sattanino da Sattanino il passaggio per Procopio da Procopio vediamo il passaggio ancora all'indietro per Sattanino ricordo la partita nel secondo tempo appena riniziata vediamo ancora Tambussi che avanza palla al piede lancio lungo di Tambussi sulla testa di Gueie che non interviene interviene Cleto Giura poi è Gulli da Gulli a Marchetti da Marchetti ad Andrea Alcava che stoppa bene sulla fascia passaggio all'indietro per Tambussi passaggio per Gueie ma interviene in bello stile in bello stile Silvio Brustolin Elasti si riporta in vantaggio anzi si riporta in avanti scusate in vantaggio c'è già per 2 a 0 frutto della doppietta di Gabriele Giacchino ancora della Giovanna nella propria metà campo il passaggio per Zizi anzi Ghiardelli passaggio arretrato Brustolin sbaglia rinvio questa volta la palla termina nel tunnel degli spogliatoi vediamo un guardalini anzi un racchetta palla che va a dare la palla ad Andrea Lacava che si occupa di tutte le rimesse con le mani dalla fascia destra palla sulla testa di Mannasi e va anticipato poi Tambussi anticipa Valenti fallo laterale Todisco deve ripartire come ultimo uomo attenzione al passaggio sbagliato ma interviene bene Tambussi la cava sulla destra prova a andar via la cava poi l'arbitro vede Tambussi a terra che si tiene la caviglia e va quindi ad intervenire Leonardo Tambussi a terra l'arbitro dice che può rialzarsi non fa entrare il massaggiatore vediamo Tambussi che viene aiutato da Giacchino a rialzarsi sembra nulla di grave vediamo se restituiranno la palla i giocatori dell'asti così è Giacchino va a servire il portiere Sattanino se ne sono già andati due minuti nella ripresa lancio lungo di Sattanino a cercare Amaradio di testa Amaradio nella terra di nessuno poi Gulli di testa ancora Amaradio poi interviene Piccone lancio lungo preda di Tambussi che sembra non essere ancora al cento per cento evidentemente ha preso un pestone ed è la cava dalla fascia destra che prova a rimettere la palla sui piedi di Tambussi che sventaglia per Toniato Toniato sbaglia ma interviene prontamente Todisco lancio di Todisco per la cava la cava per Gulli di Artona che però non riesce a portarsi in avanti e ancora Todisco col suo destro che prova a servire la cava stop di Lacan anche la cava ricordo non è al meglio come Gulli Gulli lancia in area Gueye che viene anticipato poi attenzione alla ripartenza dell'Asti fa buona guardia Tambussi che poi perde la palla c'è un taglio per Giacchino ma è bravissimo Todisco a intercettare la palla che poi finisce a Procopio poi a Sattanino da Sattanino a Tambussi bisogna uscire da questa metà campo Marchetti perde malamente a un'altra palla poi è Picone che avanza viene contratto da Gulli l'arbitro dice senza fallo ancora Gulli che questa volta interviene e viene ammonito Andrea Gulli ammonito anche Gulli nel Derton classe 97 assieme a Marchetti va sul tabellino giallo dell'arbitro e c'è un calcio di punizione dalla tre quarti bassa che andrà a calciare adesso un giocatore dell'Asti probabilmente Picone bella la cornice di pubblico oggi qui al Censin Bosia parte Picone e ancora l'Asti sulla fascia destra parte Picone ancora con un cross che sta per raggiungere Valenti addirittura il cross sfiora il palo al quinto un rasoterra perfido di Picone sfiora il palo vediamo adesso Maradio che parte serve la cava Andrea la cava prova ad accentrarsi serve Marchetti da Marchetti il passaggio sulla sinistra per Procopio Procopio in area batti e ribatti palla fuori dall'area sul piede destro di Gulli che serve Manasieve vediamo il Macedone vicino alla bandierina si gira Manasieve almeno va a conquistare il quarto calcio d'angolo 4 a 2 gli angoli a favore del Dertona ma quel che più conta è che i Galletti sono in vantaggio 2 a 0 vediamo adesso Manasieve che va con cura a mettere la palla sull'angolo ma la lascia ad Amaradio sarà Amaradio col suo sinistro a calciare questo calcio d'angolo Manasieve in area parte Amaradio in area la palla non arriva sulla testa di Todisco arriva sul piede di Gulli che sbaglia il passaggio ci arriva Marchetti Marchetti in area il tiro di Marchetti è ancora calcio d'angolo ci è arrivato con la sua testa Cleto Giura dall'altra parte sarà Manuel Marchetti a calciare il calcio d'angolo numero 6 a favore del Dertona vediamo Marchetti pronto al calciare teso in area non ci arriva ancora una volta nessuno e il Dertona almeno va a usufruire di una rimessa laterale qui sotto la nostra postazione con Luca Amaradio da Amaradio alla Cava vediamo la Cava che serve Procopio Procopio prova un tiro improponibile dalla lunga distanza clamorosamente fuori non abbiamo mai beccato lo specchio della porta oggi Dertona che almeno in questa ripresa sembra provarci però di occasioni non ne sono ancora state create ed è Della Giovanna che in tutta calma lancia a centro campo una palla sulla quale arriva arriva Giacchino poi ancora un giocatore dell'Asti poi ancora Della Giovanna sulla testa di Toniato che prova a servire Gueye che viene fulminato da Picone poi ancora in avanti sulla testa di Procopio anzi Todisco poi Gueye vediamo tutto definato sulla fascia la palla su Manasiev Manasiev sulla tre quarti Manasiev perde palla poi ancora la Cava poi Tambussi poi Todisco Todisco serve Marchetti che prova a servire Gueye che però arretra troppo poi ancora Marchetti ma siamo sempre a centro campo non riusciamo a creare occasioni da gol ancora Manasiev vediamo se si accende all'indietro per la Cava dalla Cava Todisco da Todisco a Manuel Marchetti lancio profondo di Marchetti per Amaradio troppo profondo non ci arriva il ragazzo di Arquata e la palla termina in fallo laterale quando i minuti sono otto due a zero per i padroni di casa ci vorrebbe anche un pochino di fortuna in questo frangente a Zizi con le mani va a rimettere la palla in gioco Giacchino poi Tambussi poi ancora Favale poi Giacchino poi Gulli da Gulli a Procopio un campanile a metà campo a Zizi batti e ribatti Gulli poi Marchetti parte Procopio sulla sinistra ma vediamo che non è brillante come al solito non prova le sue sgroppate lancio per Amaradio in area non riesce a stoppare bene la palla contratto da un difensore la palla termina direttamente sul fondo non era male questo passaggio per Amaradio che ringrazia il compagno ma non è riuscito Amaradio a stoppare bene la palla la palla che è terminata fuori quando i minuti sono nove al mio cronometro nella ripresa e sarà Silvio Brustolin ad andare a rimettere la palla in gioco lancio lungo di Brustolin col suo destro vediamo c'è un batti e ribatti dalle parti di Procopio attenzione ancora Lasti va via Favale in area che ci grazia bomba di Favale a pochi passi da Sattanino troppo alto altra occasione per Lasti con Favale alto il tiro in diagonale dell'ex Borgosesia si trova una meraviglia i tre davanti Favale Giacchino e Valenti Dertone a centrocampo che prova a venire avanti con Guei e questa volta spinto da Della Giovanna l'arbitro vede la spinta e c'è un calcio di punizione a favore del Dertone battuto da Gulli troppo lunga la palla per Amaradio palla che termina fuori sarà Lasti andare a rimettere le palle con Ghiardelli il duemila e quattro con le mani ecco Ghiardelli con le mani che serve Valenti che si gira bene prova a servire Giacchino Giacchino stoppa la palla poi c'è un rilancio lungo per Amaradio della Giovanna interviene ancora per Giacchino che si porta la palla in fallo laterale e la cava con le mani vediamo intanto che tutti i giocatori della panchina del Dertone provano a scaldarsi ancora Luca Amaradio va avanti poi subisce una spinta l'arbitro dice che non si tratta di nulla di grave la palla termina mestamente sul fondo minuti undici nella ripresa sempre due a zero per Lasti vediamo Manasiev che va a incitare con le mani Luca Amaradio ed è Silvio Brustolin che andrà a calciare una palla a metà campo lancio di Brustolin testa di Valenti attenzione a Giacchino anticipato molto bene da Santanino che esce con le mani serve Todisco da Todisco a Procopio da Procopio a Manasiev Manasiev arretra purtroppo la palla sul piede di Tambussi da Tambussi ad Andrea Lacava il passaggio adesso per Todisco lancio lungo di Todisco per Amaradio la palla termina l'M l'M sul fondo ci sono oggi poche idee e mi sembra anche poche forze e c'è il primo cambio esce Marchetti ed entra Matteo Sacca quindi Dertona che prova ad essere un pochino più offensivo prova la carta Sacca c'è qui la sua fidanzata in tribuna vediamo che Sacca probabilmente si posizionerà sulla fascia destra Amaradio va sulla fascia sinistra e Gueye giocherà al centro con Manasiev dietro a questo tridente ecco Valenti che prova a superare Todisco poi Toniato ma ancora Toma centrocampo per Azizi passaggio per Giacchino poi Lancio Lungo sparato fuori da Tambussi quattordici minuti nella ripresa Dertona che ha effettuato il primo cambio Marchetti è uscito entrato Matteo Sacca Lancio per Valenti da Valenti a nessuno perché è intervenuto Tambussi però regalando un'altra rimessa laterale non calciata rimessa male con le mani dice l'arbitro da Giacchino e quindi c'è l'inversione Dertona che riparte dalla sua metà campo con Toniato sarà lui a fare il play in questa ultima mezz'ora di gioco vediamo in avanti Procopio da Procopio a Toniato Toniato si fa soffiare la palla che rimane sui piedi di la cava che lotta come un leone e adesso è Della Giovanna che va a sparare via la viva il parroco palla che arriva in tribuna e vediamo Sacca che andrà a rimettere la palla con le mani la lascia a Gulli nella tre quarti d'attacco del Dertona Andrea Gulli pronto con le mani vediamo il passaggio per Manasiev Manasiev controlla bene la palla si gira prova la conclusione che è una specie di telefonata per Silvio Brustolin quando i minuti sono quasi sedici al mio cronometro partita sempre sul due a zero risultato col quale Lasti aveva chiuso il primo tempo palla centrocampo una palla che spiove sulla tre quarti sulla testa di Valenti che viene poi anticipato ma la palla è tra i piedi di Giacchino che esce con una magia e viene recuperato da Maradio vediamo che c'è anche un tentativo di reazione ci sono animi accesi vicino a Luca Maradio probabilmente ci sarà un calcio di punizione a favore dell'Asti dove è solo un aggiornamento 3 a 1 dell'alcione sulla Vogherese questo è un risultato che mi fa piacere naturalmente Vogherese che rimarrebbe alle nostre spalle vediamo ancora Maradio a terra si perde altro tempo speriamo che non si tratti nulla di grave ma ricordo che il calcio di punizione sarà a favore dell'Asti e forse c'è anche così è ammonito a Maradio terzo ammonito nel Derton a Maradio Marchetti e Gulli due ammoniti piccone Giacchino nelle file dell'Asti ci sarà adesso un calcio di punizione molto pericoloso dalla zona destra due passi dall'area di rigore posizione ideale per un cross teso in area vediamo diversi giocatori dell'Asti in area Dertona che si deve difendere vediamo Sattanino che richiama i suoi difensori pronto ancora una volta Giacchino mi sembra vediamo Giacchino sulla palla accanto a lui c'è un altro giocatore dovrebbe trattarsi di piccone naturalmente dell'Asti non ha fretta aspetta che l'arbitro fischi e dovremmo essere pronti finalmente parte Giacchino direttamente in porta bello il calcio del talentuoso trequartista genovese la palla termina fuori non lontana dal palo di Sattanino siamo sulla fascia destra a centro campo Andrea Gulli il passaggio per Teo Toniato Toniato avanza mi dicono adesso che non ho capito cos'è successo vediamo un attimo poi dichiarire il numero undici Gulli poi in area interviene della Giovanni intanto il Dertona che viene in avanti mi dicono intanto non ho non ho seguito bene cos'è successo ma sembra che Giacchino sia stato espulso e quindi l'Asti giocherà in dieci uomini l'ultima parte di questa partita che sta vincendo col punteggio di due a zero vediamo se il Dertona profiterà di questa di questo vantaggio numerico undici contro dieci Dertona che adesso prova a venire in avanti sì effettivamente giocano in dieci i giocatori dell'Asti probabilmente c'è stata una reazione su Amaradio intanto Manasi è in area palla adesso a piccone che lancia lungo ci arriva per otto disco e la palla termina in fallo laterale vediamo il numero due Lacava che serve Gulli da Gulli a Sacca ma è impreciso il lancio di Andrea Gulli che non è sicuramente nella sua migliore giornata Azizi va a rimettere la palla in gioco sulla testa di Tambussi batti e ribatti sulla trequarti Gueye anticipato all'ultimo e la palla termina sul piede di Brustolin che rilancia via sulla testa di Tambussi poi la Cava dalla Cava a Gulli ancora Tambussi da Tambussi a Manasiev vediamo Manasiev che non riesce a servire in avanti Amaradio ci arriva Toniato passaggio sulla sinistra ma viene anticipato un giocatore del Dertona da Chianese ancora il Dertona sulla fascia sinistra con Gulli da Gulli il passaggio a Procopio poi ancora Andrea Gulli vediamo Gulli che serve Amaradio da Amaradio il passaggio a Toniato che sta per perdere palla la recupera ancora Teotoniato il passaggio per questa volta Sacca sulla fascia destra che ha poco spazio prova a partire Sacca si accentra non riesce a superare l'avversario ancora Sacca ancora la Cava non arriva sulla palla Gueye palla ancora sulla testa di Picone poi ancora Tambussi da Tambussi a Manasiev Manasiev si accentra poi deve decentrarsi poi la Cava passaggio sbagliato non ci arriva Amaradio poi ancora Gulli che difende bene palla Gulli il passaggio sbagliato per Procopio mancano proprio le idee e quando i minuti sono 22 nulla di fatto nella ripresa sempre 2 a 0 per Lasti Dertona che fa fatica a rendersi pericoloso non riesce a entrare in area ed è adesso Lasti che va con le mani a servire Valenti che copre bene la palla però si porta la palla in fallo laterale Dertona che riparte con Andrea la Cava che va a rincorrere la palla sulla fascia destra la stoppa in questo momento poi si ributta in contropiede Asti tutto schierato vediamo ancora Gulli che serve Procopio da Procopio ancora all'indietro per Tognato Tognato avanza serve Sacca che non arriva sulla palla poi Lasti butta via la palla Asti che in dieci uomini vediamo adesso Tambussi con le mani che andrà a rimettere in gioco un fallo laterale lascia però l'incombenza ad Andrea la Cava la Cava il passaggio a Manasiev Manasiev che prova ad avanzare ma Picone gli butta la palla in fallo laterale 23 minuti nella ripresa sempre 2 a 0 Tambussi da Tambussi a Tognato avanza Teotoniato palla sulla sinistra sul piede sinistro di Procopio che non se la sente a crossare poi ancora all'indietro per Tambussi da Tambussi il passaggio per la Cava dalla Cava Manasiev si accentra Manasiev prova a bucare la difesa poi la palla sulla sinistra per Procopio avanza Procopio ma il problema che viene strattonato poi la palla termina direttamente in fallo di fondo davvero poche le idee del Derton oggi che proprio non riesce a costruire azioni pericolose anche perché l'Asti è molto compatto indietro lascia pochissimi spazi sia Maradio sia la Cava e anche adesso Saccà hanno pochissimi spazi vediamo adesso Brustolin che perde un po' di tempo poi lancio lungo a centrocampo sulla testa di Todisco che serve Gueye poi ancora a Maradio che serve Saccà che ha un po' di spazio Saccà non riesce a concludere e si fa anticipare non era una brutta occasione questa adesso vediamo la Cava che va a recuperare con le mani la palla la serve a Tambussi ma all'indietro per Todisco da Todisco a Toniato vediamo Toniato se serve così è Procopio avanzo Procopio poi a Maradio viene spinto l'arbitro dice che non è grave il fallo poi Valenti e la palla termina sul piede di Toniato che deve invitare Sattanino a uscire coi piedi dalla propria area di rigore palla a Tambussi da Tambussi ad Andrea Gulli avanza palla al piede Gulli si ferma all'indietro Toniato poi ancora Leo Tambussi il ragazzo il Ponte Curone serve Sacca sulla fascia Sacca in area anticipa tutti di giustezza della Giovanna giochiamo troppo di Fioretto non riusciamo a penetrare in area vediamo adesso la Cava il passaggio per Tambussi ancora Andrea la Cava ancora Tambussi che si avvicina all'area Tambussi viene anticipato di giustezza e naturalmente ancora un fallo laterale ed ancora Andrea la Cava con le mani ancora la Cava che non sa chi servire serve all'indietro Ciccio Todisco da Todisco a Toniato Toniato serve Gueye fuori dall'area Gueye serve a Maradio che finalmente l'arbitro fischia un fallo e c'è un calcio di punizione adatto al piede destro di Srasco Manasiev la distanza non è proibitiva potrebbe provarci il Macedone una delle poche occasioni create dal Dertona grazie a Luca Maradio Dertona che ha poco tempo per cercare almeno il gol dell'uno a due diciassette diciotto i minuti al termine vediamo Manasiev che studia la barriera accanto a lui c'è Teo Toniato Brustolin va a disporre la barriera sta per partire Manasiev cinque gli uomini in barriera vediamo Manasiev e anche Toniato parte Manasiev sulla barriera purtroppo non era neanche tanto forte il tiro attenzione adesso a Favale in contropiede uno contro uno in contodisco ma si decentra un po' Favale poi cerca di entrare in area attenzione adesso al numero 46 Ghirardelli che sbaglia il passaggio Gulli per Sacca Sacca che prova ad accendersi sulla fascia parte Matteo Sacca passaggio per Manasiev da Manasiev ancora una percussione per Amaradio in aria sbaglia la conclusione Amaradio sbilanciato questa non era una brutta occasione per il Dertona i minuti sono 28 Amaradio ben servito da Manasiev di sinistro alto prima occasione non dico nitida ma almeno un'occasione per il Dertona con Sacca che per la prima volta si è un po' acceso sulla fascia destra ma il risultato rimane fermo sul 2 a 0 ed è la Cava che di testa va a buttare la palla in falla laterale e con tutta calma Lasti con Picone va a servire Valenti Valenti sbaglia l'appoggio la palla sul piedre di Sacca che serve Andrea la Cava dalla Cava a Tambussi anzi scusate a Toniateo Toniateo a centrocampo supera la linea di centrocampo serve Sacca c'è un tocco di mano non rilevato dall'arbitro Picone ancora Lasti a ritroso con Della Giovanna che rinvia sul piede di Toniato ancora Toniato ancora Giura poi Tambussi da Tambussi ad Andrea Gulli e avanza palla al piede Andrea Gulli ma avanza al piccolo trotto il Derton ancora Procopio da Procopio a Toniateo da Toniateo alla Cava siamo sulla fascia destra ancora Sacca per Amaradio prova entrare in area ma viene superato da un difensore poi Toniateo palla in area super intervento di Guei e Puliti scusate di Giura lancia ancora per Sacca in area in fuorigioco dice l'arbitro il guardaline allo pesche in fuorigioco e quando i minuti sono 30 il Dertona non riesce a mettere assieme un paio di azioni decenti dove è un aggiornamento importante il Ligorna in vantaggio 1-0 sul Chieri questo è importante tra l'altro adesso deve uscire Andrea la Cava e addirittura entra un classe 2007 il ragazzo Taverna che fa parte della Juniores mi dicono che sia un centro avanti speriamo in questo quarto d'ora possa fare qualcosa di buono esce quindi Andrea la Cava che non era al meglio per una botta si è dato molto da fare ma si è visto che la corsa non era quella dei giorni migliori tanto Maradio conquista un altro fallo a centrocampo 31 i minuti al mio cronometro sempre 2-0 per l'Asti Tambussi avanza Matteo Sacca da Sacca per Taverna Taverna si gira serve Toniato poi Gulli da Gulli il passaggio a Manasiev Manasiev si accentra prova a servire Sacca che pensava di essere in fuorigioco la palla termina direttamente sul fondo davvero poche idee confuse davanti facciamo tantissima fatica a impensierire un'Asti che pur in dieci per l'espulsione di Giacchino continua a non correre alcun pericolo vediamo adesso Brustolin lancio per Picone ma direttamente in fallo laterale 32 minuti sul mio cronometro Sacca con le mani per Tambussi da Tambussi a Todisco avanza l'ex giocatore del Casale poi si ferma poi parte Andrea Gulli vediamo Gulli sulla trequarti il passaggio per Amaradio che non ci arriva si arrabbia Gulli un po' troppo forte il suo passaggio Dertona che non riesce a dare assolutamente profondità al suo gioco e Dertona sotto di due gol praticamente non ha fatto un tiro in porta Valenti attenzione a Favale che prova il tiro della domenica che non parte neanche poi ci pensa Tambussi a creare un brivido ma fortunatamente Favale intercetta di mano Taverna stop così così del classe 2007 palla Picone Picone che è un giocatore di grande classe giura poi ancora Lasti in avanti per Toma Toma viene superato dato disco con una specie di pallonetto palla Sattanino da Sattanino a Sacca che ha una prateria davanti a sé sbaglia tutto però il controllo e poi riesce a conquistare una rimessa laterale ma siamo sempre a centrocampo Sacca serve Gulli che è stanchissimo ancora Gulli da Gulli il passaggio per Procopio da Procopio a Toneato avanza palla al piede Toneato passaggio a ritroso per Tambussi da Tambussi a Gulli ancora Andrea Gulli studia i compagni poi prova a partire la percussione di Gulli in area stoppato e palla tanto per cambiare in fallo laterale questa volta dalla fascia sinistra undici minuti al termine forse dieci Tambussi Amaradio da Amaradio a Sacca vediamo Sacca se entra in area non ci riesce troppi giochini prova il tiro ancora Amaradio in area il tiro a giro e il gol del ragazzo di Arquata una magia di Luca Amaradio riapre la partita Amaradio va a segnare per il Dertona due a uno un tiro alla Del Piero anche se di sinistro una bella cosa l'unica vista davanti Amaradio riapre la partita anche se mancano solo otto minuti al termine gol di Luca Amaradio vediamo adesso che esce Favale vediamo chi entrerà al suo posto Lasti perde un po' di tempo Lasti si 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 il numero 99 Daniele più grande con il numero 4 Matteo Guarini entra il numero 4 classe 2002 Darini pochi minuti per il Dertona per provare l'impresa vediamo Procopio passaggio per Andrea Gulli vediamo Gulli che avanza per Manasiev Manasiev fermato palla vicino al fallo laterale fallo laterale appannaggio dell'Asti Asti che adesso naturalmente rallenta il ritmo vediamo anche l'arbitro se recupera qualche minuto non ci sono state tante sostituzioni ma almeno tre minuti dovrebbero esserci Valenti si gira Valenti la palla ancora per Toma sulla fascia destra la lascia uscire Todisco Dertona naturalmente stanco anche se deve provarci fino alla fine intanto Dome purtroppo arriva una brutta notizia perché ha senato il Gozzano 1-0 in casa del Borgosesio beh d'altra parte con l'ultima in classifica noi siamo riusciti a pareggiare ma gli altri vincono tanto ancora Maradio in area forse riesce a conquistare un calcio d'angolo anzi no la palla termina sul fondo quindi sarà Silvio Brustolin ad andare a calciare non ci voleva naturalmente questo gol del Gozzano ma potevamo aspettarci la vittoria esterna di un Gozzano che ha cambiato guida tecnica da qualche domenica è arrivato Espinal ex giocatore dell'Atalanta ed ex tecnico della Folgore Caratese ha sostituito mister Schettino batti e ribatti a centro campo la palla che poi termina sul fondo Sattanino deve rimuovere la palla adesso è pronto a rimetterla in gioco l'arbitro dice che c'è un altro cambio entra un altro giocatore del Dertona esce Usman sangueie e mi sembra entri i robotti prova la carta Giovanni i robotti mister Turi chissà che il giocatore di Tortona non trovi qualche lampo di classe ed è Tambussi che avanza palla al piede lancio lungo in direzione di robotti viene anticipato poi ancora giura che lancia via la palla alla viva al parroco palla che termina in fallo laterale e adesso c'è un'altra sostituzione esce applauditissimo Toma e vediamo che entra Plado altro giocatore lasciatemi dire storico entra Tommaso Plado tanto il vento mi ha spazzato tutti i fogli vediamo Tambussi che ha giocato tanto anche ad impostare nel secondo tempo Toniato da Toniato sulla fascia sinistra per Procopio ancora il Dertona che avanza palla al piede con Robotti Robotti fuori area poi il passaggio per Procopio da Procopio in area la palla quasi sulla testa di Robotti poi ancora Procopio arriva Manasiev ma non riesce a calciare e la palla arriva Lembe Lembe tra le braccia di Silvio Brustolin palla sporca in area defilata a dieci metri dal portiere prova a intervenire Tato Manasiev ma la palla finisce tra le braccia di Brustolin altra mezza occasione per il Dertona quando mancano quattro minuti Manasiev palla adesso a Tambussi da Tambussi a Toniato si gira a Toniato da Toniato il passaggio per Procopio da Procopio ancora Gulli che non ce la fa più poi a Maradio avanza a Maradio Robotti bello il passaggio per Procopio in area ci arriva Taverna che sfiora il palo il ragazzo della Juniores come un falco in area di piatto sfiora il palo sarebbe stato un gol bellissimo quarantaduesimo Taverna il classe duemilasette sfiora il palo Asti che ricordo da più di venti minuti e in dieci per l'espulsione di Giacchino giocatore che ha deciso la partita nel primo tempo tanto c'è un altro rinvio lunghissimo dell'Asti Robotti Robotti all'indietro vediamo Tambussi che va a servire ancora a Robotti Robotti per Toniato di tacco per Tambussi ci prova ancora il Dertona sulla fascia destra parte Sacca vediamo Sacca cosa riesce a fare serve Toniato Toniato ad Amaradio prova entrare in area Amaradio Amaradio al ritmo al ritmo al Dertona con un altro cambio sta per uscire Ciccio Valenti ed entra con la maglia numero 19 il bomber Estone Coscor giocatore che non conosco arrivato ad Asti dalla Serie A Estone per ora non è che abbia giocato molto un giocatore dal fisico imponente tanto Amaradio prova a trovare l'angolo trova solo un fallo laterale mancano due minuti al mio cronometro più recupero vediamo Sacca Sacca per Amaradio in area ancora Amaradio prova va a entrare in area batti e rimatti Sacca viene contrato in area l'arbitro dice che non c'è nulla poi Toniato poi ancora Tambussi Gulli Arpiona la palla Andrea Gulli la conclusione di Andrea Gulli troppo alta ci prova però il Dertona con grande cuore Asti che negli ultimi dieci minuti ha dovuto subire l'arrembaggio dei Leoncelli ed è Brustolin che va a calciare l'ennesimo rinvio quando manca solo un minuto al mio cronometro un minuto e sono tre come pensavo i minuti di recupero poco tempo per i Leoncelli per provare a centrare il miracolo testa di Tambussi poi palla che esce in fallo laterale l'Asti non va a rimettere la palla Asti che adesso va con le mani a rimettere in gioco Tambussi poi ancora un rilancio profondo di Todisco arriva Giovanni Robotti che stoppa la palla e avanza Robotti prova a servire un compagno viene contrato gira volta a centrocampo poi Tambussi poi ancora Procopio poi ancora Todisco siamo a centrocampo prova ancora Procopio Procopio serve Tambussi poche energie in questo finale Dertona che va avanti con la forza dei nervi ci prova adesso Sacca Sacca che non riesce a trovare Robotti ma conquista un fallo laterale vediamo Robotti con le mani lascia la palla probabilmente a nessuno serve Tambussi Tambussi molle in area palla fuori dall'area ancora Tambussi come un leone prova Tambussi il tiro della domenica la palla termina fuori nulla da fare ha provato il gol della domenica Leo Tambussi una specie di pallonetto una pallombella troppo alta e purtroppo siamo entrati negli ultimi scorci di questa partita una partita che si è accesa nel finale Dertona che ha provato a trovare il gol del pareggio non l'ha trovato vediamo Brustolin che rilancia lungo palla centrocampo ancora Lasti che viene in avanti Robotti Gulli Sacca toniato sbagliato il passaggio poi ancora Lasti che avanza con il nuovo entrato l'arbitro dice che il fallo laterale è a favore dei galletti sarà Picone con le mani ad andare a rimettere la palla vediamo ancora il nuovo entrato che commette fallo Dertona che fosse ancora una palla vediamo se Sattanino andrà a calciare lungo vicino all'area di rigore no sarà Tambussi ancora Tambussi ancora Sattanino lancio lungo Manasiev di testa palla per Taverna anticipato c'è ancora un'occasione forse un fallo laterale vediamo il giovane Taverna che va a riprendere la palla fuori dal campo vediamo Procopio con le mani tutto il Dertona prova ad avanzare Procopio con le mani lancio lungo in area e l'arbitro non dà la possibilità al Dertona di avere quest'ultima occasione fischi alla fine vince l'Asti due a uno Dertona che mi è piaciuto solo negli ultimi venti minuti da apprezzare la reazione e il bellissimo gesto tecnico di Amaradio anche Taverna negli ultimi dieci minuti non mi è dispiaciuto scusate però insomma il risultato dice che l'Asti ha vinto due a uno e io vi ripasso la linea auguro a tutti una serena Pasqua ci risentiremo al Fausto Coppi per Dertona città di Varese grazie mille Domenico grazie mille veramente per la tua radiocronaca ti abbracciamo e ti auguriamo anche te i migliori auguri per quanto riguarda la Pasqua Dertona dunque Asti Dertona finisce due a uno sconfitta importante per il Dertona direi che con Cristian abbiamo ancora in collegamento Domenico no giusto per capire no ok ci siamo allora Cristian hai davanti i risultati giusto per quanto riguarda questa 33esima giornata di campionato se ce li vuoi dare al volo tenendo conto chiaramente dei match delle 15 e delle 15 e 30 che sono ancora in gioco prego Cristian sì perché le partite delle 14 e 30 sono finite tutte vince l'Albenga di misura in casa 1 a 0 col Pinerolo vince l'Alcione 3 a 1 con la Vogherese vittoria esterna del Gozzano in casa del Borgosesia poi 1 a 1 tra Bra e Lavagnese di Laga il Ticino che vince 5 a 2 sul Pondonnà vince il Chisola 3 a 2 Vado poi risultati ancora parziali 1 a 1 tra Varese e Saremese vince la Fezzanese 2 a 1 sull'Alba e la vittoria dell'Igorna 1 a 0 sul Chieri ecco questi risultati per quanto riguarda la 33esima giornata di campionato andiamo anche con la classifica perché a questo punto subito lo andiamo a dire il Dertona è ancora fuori dalla zona play out dopo 33 giornate anche perché cosa è successo sotto il punto di vista appunto della classifica sì perché la vittoria del Gozzano fa un bel balzo va al 13esimo posto esce dalla zona play out che ci va alla Vogherese che ha perso con l'Alcione quindi il Dertona rimane fuori dalla zona play out con un punto di distacco nella prossima partita vedrà affrontare il Varese adesso mancano 5 partite 5 partite che saranno tutte finali non solo per il Dertona ma anche per le altre squadre coinvolte nella salvezza benissimo quindi dicevamo del Dertona che solo nel finale ha ritrovato un po' il bandolo della matassa poi in realtà la situazione è stata piuttosto complicata allora se sei d'accordo tra pochissimo andiamo a sentire quella che è la situazione attraverso il nostro il nostro Gianni De Caro che andiamo a sentire direttamente ad Asti nel frattempo lanciamo soltanto un po' di super spot e poi torniamo PNR Sport Club PNR Sport Club il tuo sport su Radio PNR la tua vita la tua radio Cava International rappresenta una realtà affidabile ed efficiente nel campo delle spedizioni internazionali un team giovane e dinamico è a vostra disposizione con diversi tipi di servizi mettendo sempre al primo posto la protezione la protezione delle merci ed il gradimento del cliente l'azienda genovese è partner ufficiale del Dertuna FBC 1908 Cava International il sorriso soddisfatto di chi riceve la merce Mavian Max operatore nazionale leader nella fornitura di reti broadband a bassa latenza porta internet negli stadi l'azienda tortonese fornisce connettività e servizi streaming a più di 60 campi di società di serie C e del settore giovanile di compagini prestigiose di serie A Mavian Max è partner ufficiale del Dertuna FBC 1908 Mavian Max punto it tecnologia ed innovazione al servizio dei leoni da oltre 20 anni Eleva 2000 è leader nella vendita installazione e manutenzione di ascensori montacarichi e piattaforme elevatrici il nostro primo obiettivo è la tua sicurezza operiamo in provincia di Alessandria e Pavia con un pronto intervento attivo 24 ore su 24 siamo a Tortona in strada statale per Genova 11B visita anche il nostro sito eleva2000.it Fiat Track da più di 30 anni è un punto di riferimento chiave nel settore della logistica concessionario ufficiale carrelli elevatori nel suo showroom di Tortona in strada statale per Genova commercializza macchine per la movimentazione di merci piattaforme aeree scaffalature e attrezzature per le pulizie industriali di marchi leader di mercato ampio assortimento di macchine usate servizio efficiente di riparazione e assistenza multimarca Fiat Track dal 1991 logistica affidabile Radio PNR La tua vita La tua radio Di nuovo in onda questa è Radio PNR e soprattutto siamo qui a raccontare quello che è accaduto ad Asti oggi il Dertone ha perso ai noi 2 a 1 abbiamo in collegamento telefonico però Gianni De Caro Gianni Rieccoti Sì ragazzi buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori Eccoci Niente oggi diciamo che hanno sbagliato qualcosa di troppo i singoli perché un giocatore esperto come Todisco non può farsi saltare in quella maniera lì lui intanto la butta fuori poi se ti dà il fallo ti dà il fallo ma intanto la butti fuori sul primo gol e parti già con un 0 sotto che non non dà niente di buono e poi anche la ripresa l'Asti dopo 10 minuti è rimasta in 10 e quindi noi abbiamo avuto la possibilità senza altro di migliorare la prestazione di andare a di andare almeno a pareggiarla e invece così non è stato e siamo qui a piangere per una sconfitta Ecco sconfitta pesante per quanto riguarda il Dertona c'è un po' diciamo così un po' di luce in fondo al tunnel quindi la redazione dicevamo sempre a Maradio alla fine tenta di rimettere le cose a posto Sì diciamo che un po' di luce c'è la luce c'è anche grazie diciamo alla sconfitta del Gozzano alla sconfitta della Vogherese che ci permette di rimanere un punto sopra i play-out Ecco certamente adesso poi passo la linea a Cristian che anche lui dà fatto una domanda io volevo semplicemente chiederti questo Gianni continuare però a giocare e chiaramente guardando il risultato delle altre squadre è particolarmente anche se vogliamo stancante per la squadra nel senso anche a livello psicologico Sicuramente il Dertora non deve fare non deve pensare al risultato delle altre squadre deve fare il suo deve cercare di portare a casa le partite che si possono portare a casa però oggi praticamente siamo partiti abbastanza male con quell'errore di tolisco che si condiziona la partita io volevo chiederti adesso il ministro Togli decide di schiererà in campo Taverna un classe 2007 che va vicino al gol il Dertora deve credere su questo ragazzo meritato perché noi le occasioni le abbiamo avute e purtroppo non le abbiamo sfruttate è stata praticamente la stessa partita dell'andata ecco questo è un dato molto importante insomma io comincio a ringraziarti perché comunque è importante il tuo contributo Gianni ti ringraziamo per le tue sensazioni direttamente dal campo l'ultima cosa però dopo Pasqua si torna in campo una partita di prestigio quantomeno contro il Varese secondo te cosa ci dobbiamo aspettare prima con il Varese poi per tutto il resto delle ultime cinque partite diciamo che abbiamo cinque partite Varese poi andiamo ad Alba e insomma abbiamo un trittico di partite abbastanza difficile perché poi l'ultima la incontriamo in Ligorna poi abbiamo da incontrare più soprattutto su squadre anche Ticino che è una squadra di alta classifica quindi ragazzi dobbiamo veramente rimboccarci le maniche che non c'è più tempo da perdere ecco perché il Vartona non posso neanche immaginare che il Vartona possa andare ai play out ecco questo veramente insomma è la speranza e ci auguriamo che sia un buon finale di stagione grazie ancora a Gianni De Caro ci sentiamo insomma per le prossime partite della formazione bianconera grazie Gianni ciao grazie ragazzi grazie a tutti buona Pasqua a tutti i nostri ascoltatori e forza Dertona sempre auguroni ciao ciao Gianni eccoci ciao ragazzi dunque Gianni De Caro direttamente da Asti ci ha dato un po' di sensazioni di quella che è stata la partita del Dertona ahi noi la sconfitta per 2 a 1 insomma vi aggiorniamo semplicemente con Varese Sarremese ancora ferme sull'1 a 1 Fezzanese Alba partita che ci interessa per la classifica ancora 2 a 1 a favore della formazione Ligure mentre Ligorna altra squadra Ligure questa volta la terza squadra di Genova che sta vincendo 1 a 0 col Chieri sarebbero tutti i risultati che in qualche modo aiuterebbero il Dertona che è ancora fuori dalla zona play-out e lo ricordiamo per appena un punto d'altro canto domenica 7 aprile si torna in campo dopo la pausa pasquale tutti in campo alle 15 Cristian se ti va ti chiedo di ragguagliarci su quello che sarà il calendario appunto della prossima giornata sì come dicevi tu per ora giocano tutte alle 15 il Dertona che ovviamente dicevamo andrà a sfidare il Varese poi Lasti che dopo aver affrontato noi oggi giocherà Avoghera poi il resto Brabo Orgosesia Chieri Alcione Chisola Ticino Gozzano Albenga Lavagnese Vado Pinerolo Fezzanese Pondonali Gorna e Saremese Alba perfetto quindi insomma in qualche modo sono tutte un po' ci interessano tutte e dieci le partite nel prossimo turno perché non ci sono di fatto sfide dirette per la salvezza quindi c'è veramente da mantenere altissima la concentrazione io ancora una volta ringrazio qui in sede di commento direttamente agli studi di Via Lorenzo Periosi 3 il nostro Cristian Semino grazie a te Carlo e noi vi diamo appuntamento alla prossima partita del Dertona per quanto riguarda PNR Sport adesso va avanti invece quella che è la giornata di Radio PNR rimanete assolutamente connessi con Radio PNR che del resto è la tua vita è la tua radio a presto e adesso un po' di pubblicità Radio PNR La tua vita La tua radio PNR Meteo è offerto dalla ditta Sotraf di Tortona Sotraf danni leader in pulizia sanificazione e disinfestazione PNR Meteo Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo nella giornata di giovedì un rapido fronte interesse da parte del nostro territorio saranno coinvolte le regioni settentronali e parte di quelle centrali avremo infatti piogge e rovesci sparse con nevicate sulle Alpi e localmente sull'Appenino al sud e sulle due isole maggiori splenderà il sole con cielo sereno o al più parzialmente nuvoloso temperature massime diurne che si manterranno pressoché stazionaria un po' su tutto il territorio saranno in aumento sulle isole maggiori dove si toccheranno localmente i 25 e 26 gradi il tutto sarà accompagnato da forti raffiche di vento con questo è tutto dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo PNR Meteo è stato offerto dalla ditta Sotraf di Tortona Sotraf da anni leader in pulizia sanificazione e disinfestazione le tradizioni del tuo territorio la sua storia i suoi racconti e le iniziative più belle scelte per te Radio PNR la tua vita la tua radio PNR PNR All we need is one moment or two just a little more time a little unwinding got fun on my mind and I've chosen you cause you're looking like gas and I'm looking for mileage Grazie per la visione 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 Così che ci ha fatto l'amore, così che ci ha fatto l'amore Da domani non piango, che non ti meriti altro Ho fatto schifo certe sere, mischiato il sangue con il miele Ballato scalza tra le iene, per poi buttarmi giù, buttarmi giù Però dov'eri tu, sai, dopo la malinconia Inizia il mondo se vai via Siamo in aria da ieri, 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 ieri Ti scrivo scemo col dito sopra tutti i vetri Perché mi annoia tutto ma non tu Quindi che non succeda più Che stiamo zitti a pranzo Io dai domani non piango Ti giuro no, ci siamo fatti benissimo Poteva essere meglio Comunque ho capito che quello che senti però non lo sento Così che ci ha fatto l'amore, così che ci ha fatto l'amore Da domani non piango, che non ti meriti altro E non mi meriti no Cosa che ci ha fatto l'amore, cosa che ci ha fatto l'amore Io da domani non piango, che non ti meriti altro Non mi meriti no Radio PNR Quello che potremmo fare io e te Senza pensare a te Senza dar retto a nessuno Senza pensare a qualcuno Quello che potremmo fare io e te Non lo puoi neanche credere Quello che potremmo fare io e te Non si può neanche immaginare Sai che ho pensato sempre Quasi continuamente Che non sei mai stata mia Me lo ricordo sempre Che non è successo niente Dovevi sempre andar via Io e te Io e te Dentro un palaverio a ridere Io e te Io e te A crescere bambini Avere dei vicini Io e te Io e te Seduti sul divano Parlare del piove del velo Io e te Io e te Come nelle favole Quello che potremmo fare io e te Non l'ho mai detto a nessuno Però ne sono sicuro Quello che potremmo fare io e te Non si può neanche immaginare Io e te Io e te Io e te Dentro un palaverio a ridere Io e te Io e te A crescere bambini Avere dei vicini Io e te Io e te Straiati sul divano Parlare del piove del velo Io e te Io e te Io e te Come nelle favole Io e te 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 Avere dei vicini Tra i anni sul divano Parlar del fio e del velo A crescere i bambini Avere dei vicini Tra i anni sul divano Come le pavole Radio PNR La tua vita La tua radio La tua vita 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 La tua radio La tua vita 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 La tua muse la tua vita